Avevano costituito una società dedita alle attività agricole, ma che in realtà aveva lo scopo di far conseguire indebitamente a falsi braccianti in tutto 135 prestazioni previdenziali previste dalla legge, ossia la disoccupazione agricola, indennità di malattia, di maternità e assegni familiari. Una frode per oltre 800 mila euro e danni dell'Inps. Dopo lunghe indagini avviate nel 2012, i militari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Caltanissetta e i carabinieri di Riesi, nell'ambito dell'operazione Sinedie, hanno eseguito nelle scorse ore un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Massimo Franco Maurici e agli arresti domiciliari per il rumeno Ciprian Corneanu, entrambi residenti a Riesi. Dalle indagini è emerso che la società agricola, oltre ad avere evaso il fisco, non era proprietaria dei terreni sui quali risultavano fittiziamente 135 braccianti agricoli che avevano beneficiato delle indebite percezioni e che in quanto tali sono stati denunciati all'autorità giudiziaria competente per truffa aggravata. Maurici e Corneanu avevano stipulato falsi contratti di locazione attraverso i quali la società agricola risultava solo formalmente proprietaria di oltre 25 ettari di terreno a Riesi, consentendo così ai finti braccianti di percepire le provvidenze in modo indebito, parte delle quali versate agli organizzatori delle frodi. L'azione sinergica della Guardia di Finanza e dei Carabinieri ha consentito dunque di smantellare un vero e proprio sistema di frode, a vantaggio di furbetti che sfruttavano le agevolazioni di legge per l'indebito arricchimento personale a danno della collettività.